Che bel pomeriggio, che dire, ieri che l'Inter vince contro il suo ex allenatore Settemurino, l'eronetti prete, oggi Napoli che perde a Empoli tra l'ue con doppietta l'un ex Inter, Pina Monti e oggi c'è Lazio-Milas, se tutto va come secondi piani, potrei già festeggiare un Napoli che si ritrova a 2-0 con due teli in porta Napoli che era in Malta, lo succedeva dal 1947 che Napoli ci facesse ribaltare dopo noi con il riscatto, ma oggi si è riuscito contro l'Empoli, un Eppoli che non ha praticamente staccato la sfida e è andato a vantaggio tra l'ue con una proprietà di Mert, ma l'importante è la vittoria, grazie a un reazione allenatore formidabile. Oggi la Salerno si è risfruttata una delle mie partite, la Salernità nel senso, per la tifosione della Salernità, una vittoria 1-1 contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, non è mai fatta di vincere contro questa Fiorentina, la Salernità la c'è uscita, adesso tutti sono parlato di Igor che si è avuto la partita, no, semplicemente Igor ha avuto una partita storta e la Salernità l'ha approfittata e ha vinto la partita. Adesso viene la salvezza, molto più vicina, Davide Nicola, grandissimo redatore, me lo ricordo al Grotone, io essendo calabrese, non posso far altro che ringraziarlo e anche quello in bocca al lupo perché è un allenatore con l'incontro coglioni per le scuole piccole, ma vabbè, un allenatore comunque buono per la salvezza, che si incazza, il giusto, oggi era imbessito con tutti, voleva andare in campo e aveva attestato tutti da Fazio a Bolazzone e poi l'hanno vinta con il cuore, con i denti, adesso stanno vedendo piano piano quella luce di speranza, credo che il 27 giovedì c'è anche Salernità da Cagliari se non sbaglio e appunto Bolonia vinta. Detto ciò, ciao, ciao Napoli, lo scudetto non lo vinci più, Napoli, 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 lo scudetto te lo pigli in culo. Bene ragazzi, non sento.